Benvenuti al TG10, tra poco nel telegiornale l'apertura la dediceremo alla nuova modulistica adeguata al testo unico dell'edilizia, così come recepito nell'ordinamento regionale. Gela è il primo comune ad adottarla. È durato così solo una settimana lo stop degli uffici comunali alle stanze e alle comunicazioni riguardanti interventi edilizi. Parleremo anche del trasferimento del comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Gela, il maggiore Valerio Marra. Dopo tre anni l'ufficiale andrà a dirigere il comando per la tutela del patrimonio culturale a Roma. Al suo posto arriverà il maggiore Antonio De Rosa, proveniente dalla compagnia di Santa Margherita Ligure. Spazio inoltre alla richiesta avanzata dall'associazione H in merito al potenziamento dell'organico della neuropsichiatria e al fine di aprire i centri diurni e le case protette per disabili fisici e psichici. Parleremo anche di scuola e di sport. Di questo e di altro subito dopo la pubblicità. Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla nuova modulistica adeguata al testo unico dell'edilizia così come è recepito nell'ordinamento regionale. Gela è il primo comune ad adottarla. È durato così solo una settimana lo stop degli uffici comunali, alle stanze e alle comunicazioni riguardanti interventi edilizi. Gela è il primo comune ad adottare la nuova modulistica adeguata al testo unico dell'edilizia così come è recepito nell'ordinamento regionale. È durato così solo una settimana lo stop degli uffici comunali, alle stanze e alle comunicazioni riguardanti interventi edilizi. Il Comune di Gera nel giro di 10 giorni dall'emissione della legge regionale che acquisisce le linee generali della legge nazionale presenta oggi tutta la documentazione per consentire di gestire le pratiche in ambito dell'edilizia. Noi subito dopo Ferragosta siamo stati costretti a interrompere lo sportello a causa proprio di questa legge che in modo perentorio cambiava le regole. Il Comune di Gera credo che sia il primo in Sicilia fra le altre cose nel giro di 10 giorni grazie al lavoro fatto dai dipendenti comunali, grazie al lavoro da parte della dirigenza, dell'assessore fra le altre cose in periodo di pieno agosto, periodo di ferie, nel giro di 10 giorni è riuscito a mettere a disposizione della città di Gera a quegli strumenti che consentiranno di poter attivare le pratiche inizie in tempo ancora più celesi e soprattutto certi. Abbiamo costituito un pool di lavoro per allineare la modulistica da presentare per le pratiche inizie al Comune di Gela. Ci siamo riusciti e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato. In questo modo i professionisti nella presentazione delle pratiche inizie potranno avvalersi della nostra documentazione che è scaricabile nel sito del Comune di Gela e immediatamente utilizzabile per la presentazione delle attività edilizie di competenza del Comune di Gela. Ci sono alcune attività che sono libere, altre che sono subordinate ai titoli abilitativi previsti al 380. Nello specifico abbiamo i moduli per la comunicazione di inizio lavori, la comunicazione di inizio lavori asseverata, la scia che è la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire. Questi in sintesi, estrema sintesi, sono i titoli abilitativi che adesso dobbiamo imparare a parlare e a riferirci con questa terminologia che sono i nuovi titoli edilizie previsti al 380 così come è recepito quindi dalla Regione Sicilia e adottati dal Comune di Gela. È una norma che è stata recepita con alcune modifiche ma che mette quantomeno in coerenza in modo di valutare i progetti in Sicilia e nel resto d'Italia. È stato inserito anche un modo automatico di recepire le eventuali successive modifiche e questo lo giudico un fatto molto positivo perché non costringe ad attendere il recepimento specifico ma eventuali norme che vengono modificate a livello statale possiamo andarle a vedere, analizzare e valutare già immediatamente perché immediatamente operativi. E adesso parliamo del trasferimento del comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela, il Maggiore Valeromarra. Dopo tre anni l'ufficiale andrà a dirigere il comando per la tutela del patrimonio culturale a Roma. Al suo posto arriverà il Maggiore Antonio De Rosa proveniente dalla compagnia di Santa Margherita Ligure. Sentiamo cosa ha detto il Maggiore Valeromarra ai nostri microfoni. Comandante, tre anni fa che Gela ha trovato? A distanza di tre anni che Gela lascia? Una Gela ha profondamente cambiato, sono cambiate veramente tante cose. Sicuramente è un calo del numero dei reati in questa città. Non siamo riusciti totalmente ad abbattere il numero degli incendi e a ridurre lo zero ma gli incendi e danneggiamenti seguiti di incendio sono ridotti notevolmente in questa città. Così come anche il numero delle rapine ai supermercati, ai tabaccai e alle farmacie che prima costituivano una piaga, anche in abitazione. Questo grazie al lavoro investigativo dei miei Carabinieri e delle altre forze dell'ordine coordinati alla Procura Repubblica di Gela siamo riusciti a farlo in tempi rapidi ed assicurare tantissimi criminali alla giustizia. Ma lavorare a Gela è facile, è semplice? Non è semplice. Io qui a Gela ho trovato tantissima difficoltà all'inizio nell'ambientarmi anche se venivo da un'esperienza progressa in Sicilia, a Mazzara del Vallo e a Catania. Però poi dopo ho capito tante dinamiche, sono riuscito anche grazie ai miei collaboratori a comprenderle, soprattutto grazie all'ambiente favorevole che si era creato intorno a noi. Parlo soprattutto dei giovani che ci hanno aiutato tantissimo e parlo anche di quelle famiglie buone e sane che vogliono il bene dei loro figli e che sono riusciti anche con noi a collaborare e a raccontarci tante cose. Ecco, lei parlava di giovani numerose, le visite fatte proprio a scuola dai carabinieri. Cosa vi hanno chiesto in quelle occasioni proprio i giovani? I giovani intanto erano animati da un grande senso di fiducia e di emergere nella società. Qui ho trovato tantissima pespicacia, tantissima volontà proprio di esprimersi e di far varire le loro potenzialità. Loro ci chiedono sempre un ulteriore e maggiore controllo del territorio. Ricordiamo però che per esempio la droga, l'uso di sostanze stupefacenti e le droghe leggere rappresentano ancora una piaga per questa città. Non a caso le ultime operazioni che ci hanno portato a sequestrare considerevoli quantità di sostanze stupefacenti, penso alle coltivazioni di piantagioni nel territorio qui limitrofo, ci dimostrano come effettivamente la domanda di stupefacenti sia tuttora elevata e soprattutto anche le numerose segnalazioni e i sequestri che abbiamo fatto a carico degli stessi. In questi tre anni è riuscito a fare tutto o lascia qualcosa? No, non si può mai riuscire a fare tutto. Io sono salito su un treno in corsa e adesso scendo alla prossima stazione. Poi lascerò questo treno al mio collega che mi subentrerà la prossima settimana e che è un validissimo collega e amico peraltro mio compagno di corso e che proseguirà verso una meta. Noi in questi tre anni abbiamo cercato di darci degli obiettivi nel breve e medio termine e soprattutto di colpirli e di raggiungere e di portare avanti dei risultati. Coordinati dalla Procura di Gela, ripeto, anche dalla Procura Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e soprattutto di dare delle risposte concrete alla popolazione e al cittadino che ce le chiedeva. E cosa porta di Gela nella nuova destinazione? La volontà, la capacità di emergere, la fiducia da parte delle nuove generazioni e soprattutto il loro intuito, la loro capacità e voglia di raccontarti anche le cose perché poi alla fine il gelese si trova fiducia in te e in modo particolare le cose te le racconta se te le racconta anche in maniera, anche forse irruenta dal punto di vista verbale, solo quello però soprattutto vera. Un oggettivo per Gela? Una città che cambierà ma una città in continua evoluzione, quindi fortemente dinamica. La richiesta del sostegno economico per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica si potrà presentare fino al prossimo 30 settembre. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Ligia Bela dopo che sono stati riaperti termini di scadenza dalla regione siciliana. Per scaricare il modulo dell'istanza i gelesi interessati possono consultare il sito del comune oppure possono rivolgersi all'ufficio di segretariato sociale di Viale Mediterraneo. Potenziare l'organico della neuropsichiatria e aprire i centri di urni e le case protette per disabili fisici e psichici. L'ennesima richiesta della associazione H è stata indirizzata al sindaco Domenico Messinese, all'assessore ai servizi sociali Ligia Bela, all'assessore al bilancio Fabrizio Morello, al presidente del consiglio comunale Alessandra Cia, al direttore generale dell'ASPA2 di Caltanissetta Carmelo Iacono e al dirigente del servizio di neuropsichiatria di Gela Francesco Lauria. In più di un'occasione sostengono il presidente della associazione H Maria Concetta Magranuco ed il consulente legale Paolo Capici, gli utenti interessati si sono rivolti costantemente all'associazione lamentando i lunghi tempi di attesa per le visite di controlli di routine sia per i servizi di neuropsichiatria che per quelli dell'unità valutazione geriatrica. Risulterebbe tra l'altro che rispetto alla pianta organica solo la metà dei specialisti viene impiegata nei presidi di Via Madonna della Rosario e presso il servizio di diagnosi e cura dell'azienda ospedaliera di Gela causando così serie disagi all'utenza che ha bisogno di assistenza. Per l'associazione H anche la pessima organizzazione delle strutture residenziali provoca danni all'utenza che necessita di cure e attenzioni. In tanti, rimarcano Magranuco e Capici, si fossilizzano nelle case famiglia e non trovano alcuno serio sbocco di integrazione sociale e causa anche l'assoluta assenza di centri diurni impedendo così l'ingresso di altri utenti ascrivibili quasi certamente a distorsioni ed errori di bilancio. Si continuano a sperperare milioni di euro alimentando solo ed esclusivamente gli stessi canali e non si pensa ad una vera turnazione e integrazione dei soggetti con l'apertura di centri diurni e case protette. Chi di competenza, ribadisce l'associazione H, deve adoperarsi affinché in tempi brevi i servizi vengano resi efficienti con l'incremento delle unità previste dalla normativa vigente e venga attuato un programma di turnover secondo le giuste necessità di ogni utente. L'associazione H, inoltre, chiede un incontro urgente con le parti interessate al fine di evitare ulteriori disagi e sprechi che potrebbero causare segnalazioni alla Corte dei Conti e alla Procura. Continuano le iniziative in merito ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima D'Alemanna, patrona di Gela, ogni giorno alle 7.30 fino al 7 settembre si terranno le preghiere della Rosario e della Novena della Madonna. Alle 7 la celebrazione eucaristica con Omedia. Alle 18.30 il Rosario con Roncina di Maria Santissima D'Alemanna. Oggi alle 18.30 una Santa Messa con gli ammalati. Alle 21 adorazione animata della Fraternità Apostolica. Domani, invece, Eucaristia con i gruppi di famiglia e benedizione della vita nascente. Domenica 4 settembre alle 9.15 celebrazione dei Cresimanti. Alle 19.30 l'Eucaristia dei giovani fidanzati. Lunedì 5 settembre alle 21 liturgia con le comunità neocatecumenari. Martedì 6 alle 21 celebrazione alla Santa Madre di Dio. Mercoledì alle 21 lucernario e solenni vespri della Madonna dell'Alemanna. E giovedì 8 settembre ce la festeggerà la Madonna dell'Alemanna a ricordo del rinnovamento della Sacra Icola. Continuano gli appuntamenti insaliti nel calendario di Cunta.16. Sicily Summer Events organizzati dall'Associazione Culturale da Terra in mezzo al mare presieduta da Salvatore Monreale, il cui direttore scientifico è Emanuele Tuccio. Oggi alle 19 al Club Vela sul lungomare Federico II di Svevia a Gela. Incontro con Daniela Piana, professore di Scienze Politiche presso l'Università di Bologna e con il procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela, Fernando Asaro. Non cambia il panorama sulla guida dalle scuole gelesi per l'anno scolastico 2016-2017 confermati tutti i dirigenti dello scorso anno. Unica novità è l'incarico di diregenza per il primo circolo antonio in Taldisio, l'unico rimasto senza dirigenza. Un incarico affidato ad un decano tra i dirigenti gelesi. Si tratta del preside dell'Istituto di Istruzione Superiore Eschilo Giacchino Perlitteri che è ritornato dopo 4 anni nella scuola di Via Ferace che ha diretto per un ventennio. Trovo una grossissima novità in quanto questa scuola nel frattempo ha subito dei cambiamenti notevoli e quest'anno questa scuola ricomprende anche l'ex quinto che poi era diventato ex terzo e che quindi quest'anno Santa Maria di Gesù e le Benedettine confluiscono nei cappuccini per formare il primo circolo. Conosco gran parte di tutti gli insegnanti, ho ritrovato il mio bellissimo panorama sul mare, ho ritrovato tantissime amiche, collaboratrici e professioniste valide con cui speriamo di trascorrere un anno intenso di impegni e di attività. Perlitteri trova una scuola che è stata ben diretta dal suo predecessore Adriana Quattrocchi. Un bel ricordo perché fra l'altro devo dire che in questa scuola quando nei 4 anni che mi hanno visto lontano c'è stato un pensionamento, una festa sono sempre stato invitato quindi c'è stata un'assoluta continuità, anzi la collega mia ha telefonato ieri molto cordialmente e ci faremo un passaggio di consegne pedagogiche e didattiche senza alcunissimo problema. Quest'anno dunque Bellitteri dirigerà un comprensivo oltre al classico e al liceo delle scienze umane. Nella scuola succede che a volte un dirigente debba avere più scuole e penso che 23 anni, 24 anni di esperienza e di dirigenza siano sufficienti per sapere gestire. E poi ripeto, vedremo di trovare qui una soluzione di qualche insegnante, di qualche collaboratrice molto in gamba che possa anche decidere qualcosa in assenza anche sentendoci solo per telefono. Buon anno scolastico a tutti i gelesi e a tutti gli alunni di questa scuola. E si darà l'uno di 5 settembre il sorteggio pubblico per assegnare gli alunni alle classi prime del liceo classico e del liceo delle scienze umane. Il sorteggio avrà luogo nell'aula magna del liceo classico con inizio alle 10 per gli alunni delle quarte ginnasiali e alle 11 per gli alunni delle prime liceo. La libreria Mondadori di Gela e l'assessorato alla cultura di Gela in occasione del nono incontro dei venerdì letterari, oggi alle 19.30, presso le Schiro Lab presenteranno il libro A Palermo a Palermo di Carlo Loforti. Dialogherà con l'autore Andrea Turco. Letture a cura di Lucilla Anzalone. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tale 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Eccoci, seconda parte del telegiornale, proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese, domani alle 21 sul Sagrato della Chiesa Madre, il Centro Giovanile Musica e Arte porterà in scena il musical Madre Teresa alla vigilia della canonizzazione della missionaria di Calcutta, domenica 4 settembre, alle 20, nel giorno della santificazione di Madre Teresa, si trattà nella Chiesa Regina Pacis la solenne celebrazione eucaristica animata dai ragazzi del gruppo giovanile. Si tratta dei primi due appuntamenti dell'anno sociale 2016-2017 che la comunità Regina Pacis e il CESMA propongono alla città. E ora parliamo di calcio ed in particolar modo del Gela. Manca poco al debutto in Serie D del Gela. La domenica la formazione Bianca Azzurra sarà di scena a Pomigliano d'Arco in Campania. Dopo una settimana intensa, con tanti colpi di scena, finalmente si gioca. Sono stati giorni di fuoco, una corsa contro il tempo per salvare un patrimonio. A livello societario adesso le cose sembrano essersi sistemate. Ricordiamo che il nuovo pacchetto societario del club è così distribuito. Il 60% è della famiglia Tuccio, il rimanente 40% di due imprenditori gelesi, i cui nomi sono top secret, che operano al nord Italia. Nuova linfa che porterà solo benefici. A livello tecnico invece tante cose sono cambiate. Non fanno più parte della Rosa, i vari strumbo, Mincica, Biondo, Biancola, Luis e Lia, i quali hanno preferito accasarsi altrove. In bilico la situazione del centrocampista Emanuele Trofo. Il giocatore è rientrato a Lecce e non ha ancora fatto sapere le sue intenzioni. E a livello tecnico manca un allenatore. E di ieri la notizia dell'esonero di Toto Brucculeri. L'allenamento ieri pomeriggio è stato diretto da Alessio Catania, tecnico delle giovanili. Si attende il nome del nuovo trainer. Si parla di Rufini e di Infantino. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto Brucculeri attraverso una nota ha fatto sapere come sono andate realmente le cose. Dopo l'annuncio del mio esonero scrive Ne ho letto e sentito di tutti i colori. Al fine di non fomentare e alimentare speculazioni volevo chiedere il tutto. In un momento in cui il futuro del Gela era dir poco incerto ho concordato di comun accordo con la società l'esonero rescissione prima dell'inizio del campionato precisando che questa formula mi permette di poter allenare in questa stagione in altre squadre. Faccio presente che il tutto è stato fatto e concordato in piena sintonia con la società in data 25 agosto 2016. Quello che è stato ufficializzato è stato concordato con la società giorni addietro solo ed esclusivamente perché le attenzioni di tutti, mie comprese, erano rivolte alla conclusione positiva della vicenda. Da buon padre di famiglia, rimarca Brucculeri, ho fatto la scelta che in quel momento ho ritenuto più giusta. A me resta il meraviglioso ricordo di un'avventura che resterà per sempre tatuata nel mio cuore e che nessuno riuscirà a scalfire, neanche un po'. Mi vanterò di avere creato un legame profondo con la città, di aver vinto due campionati in una piazza meravigliosa. Un ringraziamento va al mio presidente Angelo Tuccio, persona unica, al mio amico fraterno Giovanni Martello, agli amici di sempre Vincenzo Cannizzaro e Carmelo Catalano, a Umberto Cuvato, Marco Tuccio, Giacomo Cascino, mio compagno di Mille Sfoghi, Orazio Fulco, Flavio Centamore, ai vicepresidenti Lucio Antona e Giglio Alma, a Massimo Parisi e a tutta la mia squadra per avermi supportato e sopportato. Un ringraziamento va a tutti i giornalisti, ai tifosi dico la misura di quanto vi amo. Arrivederci, Brucculeri, Totopare gli amici e io di questa città ne sono fraterno amico. Ancora tennis di grande qualità a Gela, dove nei prossimi giorni gli appassionati avranno l'occasione di vedere in azione i campioni del futuro. I migliori 16 giocatori del tennis siciliano appartenenti alla categoria Under 10 maschile e femminile disputeranno a Gela il master finale, etapa conclusiva del circuito Sicilia 2016. Il comitato regionale siciliano della Federazione Italiana Tennis ha deciso di assegnare il torneo a Gela e di intitolarlo a Roberto Romagnoli, stimata figura del tennis siciliano e simbolo della storia del tennis igelese scomparso recentemente. Domani e domenica l'Eni Group Tennis Gela, rinominato Circolo Tennis Romagnoli, grazie alla sensibilità del dopolavoro Eni che ne supervisiona da sempre le attività, avrà l'onore di ospitare e organizzare questa prestigiosa manifestazione che sarà coordinata dal nuovo direttore di Circolo Roberto Marchesi. In occasione del master saranno presenti il presidente della Federazione Siciliana Tennis, Gabriele Palpacelli, ed i componenti del comitato. La scuderia Valvole Pistoni di Gela promuove il primo trofeo dell'Alemanna. L'appuntamento automobilistico è in programma nel centro storico gelese nella mattinata di domenica prossima. L'iniziativa rientra nel cartellone estate a Gela 2016, la più lunga estate di Sicilia promossa dall'amministrazione comunale. Sentiamo. Un'iniziativa sociale che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per i terremotati. Quindi invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, domenica mattina alle 9.30 e poi di proseguire sempre qui a Gela con tantissime iniziative che coinvolgeranno il Palio dell'Alemanna. La riunione sarà fatta sul corso, sul sagrato della Chiesa Madre. Abbiamo avuto l'autorizzazione anche della Padre Labbiso che c'è qualcosa. Poi sarà uno a uno, le macchine partiranno e faranno questo breve percorso che va super giù dal Benetton a Inboe o dal Randazzo, dove ci saranno dei pressociti e si starà a tirare di percorrere quel tragitto con i secondi che sono stabiliti. Da lì ci sarà il percorso via Istria, lungomare e si arriva a Macitella dove c'è un altro pressocito che darà il tempo pure dalla partenza che deve impiegare un certo tempo. In questo tragitto ti puoi fermare, nel primo tragitto lo devi fare a velocità costante e devi indovinare i secondi che devi fare. Arrivate a Macitella ci sarà una prova di abilità, stupida, ma tanto per essere impegnate. Da lì ripercorreremo il lungomare, saliremo dal museo dove ci sarà un'altra postazione, un altro giochino e arriveremo di nuovo in piazza dove ci sarà un'altra gara con dei birilli. Speriamo di poterla fare perché per la strettezza dello spazio concesso crediamo che non si possa fare, però dove si rifaranno i due giochini abbiamo avuto la collaborazione del polo angologico, delle ragazze del polo angologico che si sono prestate a fare questa manifestazione, hanno voluto collaborare con questa nostra iniziativa e andiamo sul sociale. Ultimo appuntamento con Teatro Sotto le Stelle all'Arena all'aperto di Macitella domani alle 21.30 la compagnia Antidoto porterà in scena la fortuna con la F maiuscola all'ingresso di 5 euro a coppia e per l'occasione, lo ricordiamo, tutti gli spettatori potranno partecipare ad un'estrazione che mette in palio un'opera dell'artista gelese Giovanni Giudice il ricavato, anche quello che si otterrà dalla vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza ai terremotati del centro Italia. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni.